Ciao ragazzi, questo è un altro episodio sulla saga di Clash of Clash, è il secondo episodio. Andremo a vedere un attacco che ho fatto. Vabbè, stiamo perdendo la guerra, 27-44, però ho fatto due attacchi, che è il 5, mi è piaciuto di più come attacco. Andiamo più veloce. Ho messo la scena, poi ho messo tutti, ho messo tutti i draghi, e hanno proprio devastato tutto. Abbiamo fatto tre stelle, bello attacco veramente. Vabbè, poi stiamo facendo veramente molto uguale. Stiamo facendo sempre tre stelle, cioè, erano, diciamo, non molto forti, però, stanno attaccando che le hanno fatte tre stelle a Gabriele. E si portano più avanti. Ho finalmente sbloccato i draghi. Sono da tre giorni, sono da tre giorni, quattro giorni che li ho fatti, prima di mettere questo video. Sto facendo i draghi. Sto facendo i draghi al quattro, che sono veramente forti. Mi devo fare pure il red barbero, che manca poco. Va bene. Ah, vi volevo ricordare che tra un po' di giorni farò il TH8. Manca veramente poco. Sto facendo prima questo, in modo che poi posso fare il TH8. Cioè, attacco tutti quelli che hanno buono valisi, pure se prendo trofei, però poi posso portare il TH8. Allora, per il TH8 ci vorranno otto giorni, quindi questo, un altro, cioè, uscirà quando mancherà poco al TH8. Quindi, no, 15 minuti, quando mancherà due, tre minuti. E va bene, puoi fare un altro video quando farò il TH8, ma non sarà in questo video perché sto portando il depo duro. O gemmo con 10 gemme, o facciamo un attacco senza le barbaro, però preferisco meglio fare un attacco senza le barbaro. Trovo una partita. Abbiamo buono. Vediamo. Troviamo un... Che sia poco, cioè, che sia poco forte. Non vedo l'ora, sto contento di fare il TH8. Non vedo l'ora che lo metto a fare. Poi, vediamo. Questo andrebbe bene. Giustamente dovevano stare le scupe del clan. Per fortuna abbiamo solo due arcieri. Inizio... Ad attaccare. Ad attaccare. Mettiamo il sobraccio sul liceo nero. E poi mettiamo gli arcieri tutti. Mettiamo tutti gli arcieri. Ok. Così ci sentiamo pure meglio. Siamo un poco. Spero di fare... Uccidete la barbaro. Ok. Sì. No. Non ce la faccio a fare una stella a questo villaggio. Spero 26 quindi spero che lo faccio. Sì. Spero di fare qualcosa. Sì. 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 Quarenta-otto. Sì. 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 vabbè due stelle non credo perchè non abbiamo preso il municipio ok stanno prendendo tutto l'elisi il possibile ok vabbè terminiamo la battaglia tanto non ce la facciamo abbiamo preso 86 d'oro 20 elisir 146 elisir nero e citrofene perchè abbiamo fatto una stella spero che questo video vi sia piaciuto metterò sempre attaccherò sempre quelli di th7 in modo che prendo elisir nero e questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti